E' arrivato a Taranto ieri sera il circo di Moira Orfei, grande successo di pubblico per l'inaugurazione, spettacoli in programma sino al prossimo 14 aprile nell'area allestita in Biancona, il circo di Moira Orfei e uno show dai grandi numeri, luci e scenografie di altissimo livello ma soprattutto tante sorprese. Ogni tre anni vengo qua, mi piace Taranto, una bella città e la gente mi viene a trovare tutte le sere, ma a me mi amano tutti i circo, perché ho fatto molti film, poi lavoravo con leoni, con gli elefanti e questo piaceva alla gente. Ha visto stasera? Piero Seppo, Piero Seppo, ha visto come mi accorgono? Ciao a tutti, ciao! Il Taranto FC